ragazzi ho un bel esercizio per voi se siete alle prime armi e volete migliorare i vostri mix e vostri lavori potete attuare questa tecnica come avrete letto nel titolo dovete mixare in maniera vecchia perché questo approccio perché ai tempi andati quando si mixava si mixava tutto in analogico fondamentalmente c'era il mixer c'era il nastro c'erano i compressori gli equalizzatori analogici e tutto era analogico mixando in questo modo raggiungere un certo tipo di colore ed dare al suono un certo tipo di armoniche fondamentalmente era più semplice e quel colore in genere aiutava a far suonare meglio le cose un problema che abbiamo oggi ai tempi nostri è che si lavora prettamente in digitale ed in digitale se non sai cosa fare è difficile avvicinarsi al risultato di un suono analogico poi mettiamoci anche che l'attrezzatura è diventata sempre più economica per vendere più o meno a tutti quanti per far sì che tutti possono comprare questa attrezzatura il risultato di digitale ed attrezzatura economica ed inesperienza ha portato a lavori spesso non molto soddisfacenti ed è con questo video che voglio forzarvi un po' la mente un po' la mano a lavorare come se foste a 40 anni fa quando il digitale non c'era e quando dare carattere alle tracce era più semplice fondamentalmente ho un progetto che si presta a questo tipo di video qui in rosso ho il diciamo il mix down flat ora facciamo un paragone a b tra la traccia rossa e il mix con tutti i plugin attivi sono la realtà che si diffonde come un trojan qua l'umanità ha scoperto il virus della noia ora che le strade sono vuote la gente nelle case le cause sono ignote non li comprano i tuoi sogni quelle bacconote brother siamo tutti i fratelli d'italia quando la di aria minaccia la razza se avete ascoltato con le cuffie sicuramente avrete notato qualche differenza è un po' lieve la differenza però ci tengo a sottolineare che tutti i plugin che vediamo attivi qua sotto sono in flat o quasi e già solo averli caricati sulle tracce ci porta a un cambiamento sonoro verso il positivo ovviamente tutto il sound si incolla un pochettino e prende carattere e diventa anche più definito in ogni caso quello che ho voluto ricreare con questa catena audio è quello che si sarebbe fatto per esempio 40 anni fa quando il digitale non esisteva quindi cosa si faceva si registrava sul nastro magnetico prendiamo in soggetto in analisi la traccia della voce che è questa qui viola selezionata ed il primo plugin che ho caricato è un'emulazione di nastro questo è il show tape model e va semplicemente ad imitare il comportamento di nastro magnetico io questa emulazione l'ho caricata nuda e cruda ed ho semplicemente portato questi due potenziometri a ore 1 2 insomma tutto il resto è flat poi magari ascolteremo tutto prima e dopo quindi una volta registrata per esempio la voce sul nastro questa andava immessa in un mixer quindi cosa abbiamo in ingresso nel mixer come primo step la preamplificazione quindi ho caricato come secondo plugin questa emulazione della analog session ho selezionato il preset 11 dato un po di input e tolto un po di output così per dare giusto un po più di preamplificazione come terzo plugin ho caricato una cosa atipica quando si lavorava in analogico non avevamo questi tipi di equalizzatori però stando comunque in digitale utilizzare un plugin del genere per esempio sulla voce ci viene molto in aiuto quindi equalizzare la voce prima di entrare effettivamente in un compressore vero anche se in questo caso è emulato io lo trovo molto molto comodo e molto utile e mischiare tecniche analogiche tecniche digitali messo fra virgolette può tornare davvero davvero utile per esempio in questo caso alla voce ho tolto tutte le basse ho scavato un po le medie le medio basse e tolto un po di altissime e questo senza colorare la voce ed è quello che volevo e l'ho fatto in digitale a questo punto torniamo nel mondo analogico per così dire ed ho caricato un compressore stile analogico questo è della clanghelm si rifà un paio i comandi all la 2a ed è davvero bello è tra i compressori analogici più belli gratuiti questo è completamente in flat non l'ho regolato in nessun modo e già una volta aperto inizio a colorare e leggermente comprimere ora è arrivato il momento dell'equalizzazione subito dopo il compressore in un mixer audio analogico spesso c'è l'equalizzatore ed ho voluto utilizzare questa emulazione dell'ssl dello stereo di equalizzazione di un ssl targata analog obsession l'ho messo in flat e non utilizzerò niente ma già averlo aperto il suono viene in qualche modo arricchito come ultima istanza ho voluto aprire anche un plugin di saturazione perché ho voluto aggiungere questa saturazione extra perché in ogni caso in digitale è difficile raggiungere quello quella colorazione armonica che danno le macchine vere quindi è bene ad un certo punto della nostra catena analogica aggiungere un plugin extra di saturazione affinché noi possiamo aggiungere tutte le armoniche che ci servono per dare il carattere e del colore che vogliamo al nostro suono questo preset è praticamente di default ho dato solo un pochettino più di drive e abbassato un po di più l'output ed il risultato è questo ascoltiamo prima e dopo sono la realtà che si diffonde come un trojan qua l'umanità ha scoperto il virus della noia ora che le strade sono vuote la gente nelle case le cause sono ignote non li comprano i tuoi sogni quelle banconote brother siamo tutti fratelli d'italia quando la viaria minaccia la razza ariana il becchino si scava la bara da pechino sino in costa brava passando per berlino fino a bratislava mi salvi chi può qualcuno che faccia miracoli siamo indecisi tra amici o misantropi siamo punti grigi dentro sempre se avete ascoltato con le cuffie avrete notato che il sound è cambiato abbastanza a favore della catena analogica attiva ovviamente questi pochissimi interventi caricati su tutte le tracce portano a un miglioramento del sound abbastanza importante e l'esercizio fondamentalmente sta in questo caricare questa catena audio i plug in vi ricordo che sono tutti quanti gratuiti e cercare di ottenere il risultato solo con questi plug in poi ovviamente per esempio sulla voce potrete aggiungere anche un destra se volete sulla cassa e su un rollante potrete aggiungere anche un trance e design se volete ma fondamentalmente tutto il mix verrà svolto con questa catena audio quindi si eviterà un problema molto importante che fate voi che siete alle prime armi quello dell'over processing utilizzare troppi plug in senza avere un'idea su quello che si sta facendo io vi assicuro che anche utilizzando questi plug in è possibilissimo raggiungere un risultato molto buono e molto piacevole concludendo provate a cambiare mindset provate a fare i vostri nuovi mix con questa catena audio che io vi ho proposto cercate di emulare e mixare come si faceva un tempo senza troppi frongeli senza usare tecniche strane e particolari questo perché più usate plug in e più esagerati con i preset e più il risultato finale non potrà essere migliore del risultato iniziale fondamentalmente usate sempre le vostre orecchie imparate ad usare le vostre orecchie provate e fatemi sapere come vi siete trovati grazie